Se c'era uno sviluppatore in grado di rendere Baldur's Gate 3 un'eccellenza, quello è senza dubbio Larian Games. In un periodo in cui i GDR vecchio stile sembravano ormai dati per morti, Larian aveva infatti sfornato i due ottimi Divinity Original Sin, giochi di ruolo che sfidavano le convenzioni del genere e che ricreavano alla perfezione l'esperienza di giocare a Dungeons & Dragons attorno a un tavolo. Era inevitabile, quindi, che la strada di Larian avrebbe incontrato quella di D&D, ed è così che ha preso vita Baldur's Gate 3, un GDR con una licenza illustre, in mano a persone che si sono dedicate anima e corpo allo studio di quelle opere che il suo nome lo hanno reso grande. Baldur's Gate 3 è infatti un lavoro che porta sulle spalle il futuro di un intero genere, cresciuto di pari passo con la sua community grazie a un lungo Early Access e riuscito proprio in questi giorni a dimostrare quanto nel mercato dei videogiochi ci sia spazio per avventure profonde e intelligenti. Dopo averlo giocato fino in fondo, siamo finalmente pronti per raccontarvi cosa ne pensiamo in questa recensione. Ma preparatevi, eh, perché Baldur's Gate 3 alza l'asticella dei giochi di ruolo a livelli impensabili, superando quindi ogni più rosea aspettativa. Ma cominciamo col parlare della narrativa di Baldur's Gate 3, visto che si tratta forse dell'elemento più criticato dei due Divinity Original Scene. Con Baldur's Gate 3, Larian ha potuto costruire su fondamenta gigantesca e solide, visto che è ambientato nei Forgotten Realms, tra gli universi più amati dei Dungeons & Dragons. Ok, forse non sarà il mondo più originale, eppure si tratta innegabilmente di un universo ricco e sfaccettato, e che ha permesso agli scrittori di Larian di dimostrare una volta per tutte le loro qualità. È bene precisare una cosa, però. A differenza di giochi come Planetscape, Torment e Disco Elysium, quella di Baldur's Gate 3 è un'avventura con molte più diramazioni e sviluppi, dove quindi la storia è fortemente legata a ogni singolo aspetto del gameplay. E questo perché la volontà degli sviluppatori è chiaramente sempre stata quella di offrire all'utente un gioco capace di tradurre in digitale la caotica e imprevedibile esperienza del Dungeons & Dragons, carta e penna. Perciò se dal punto di vista della trama Baldur's Gate 3 forse non riesce a toccare le vette di altri capolavori del genere, è incredibile il senso di potere e libertà che riesce a dare al giocatore, con la sensazione che qualsiasi evento dell'avventura è influenzato dalle sue azioni. La varietà di approcci per affrontare il gioco è infatti spaventosa. Larian ha creato una gigantesca ragnatela di missioni ed eventi divisa in tre diversi atti. Una ragnatela così ben interconnessa che bastano una manciata di scelte diverse per far andare la campagna in direzioni completamente diverse. Decisioni prese nel primo atto possono infatti modificare intere missioni del terzo atto, ogni compagno ha inoltre obiettivi dedicati che si evolvono in una miriade di modi, e il quantitativo di possibilità e mutamenti con cui si ha a che fare prima del finale risulta a dir poco soverchiante. E la cosa più incredibile è che questa massa di avvenimenti e dialoghi avanza con naturalezza indipendentemente da cosa scegliate di fare, che si tratti di calcoli misurati o di errori grossolani infatti non fa alcuna differenza. E Baldur's Gate è un gioco unico proprio per questo. È quanto di più vicino ci sia al vero D&D e sorprende costantemente il giocatore reagendo con intelligenza a quasi qualunque approccio. Esatto, quasi, perché per quanto eccezionale sia il lavoro fatto non è perfetto, ed effettivamente nel mare di conversazioni e circostanze possono capitare alcune incongruenze. Magari qualche risposta innaturale o strane interazioni che portano alcune missioni in direzioni strane. Si tratta comunque di situazioni rare e che non hanno mai un grosso impatto nel corso dell'avventura. Siamo certi che gli amanti dei vecchi Baldur's Gate avranno sicuramente di che nutrirsi in questo terzo capitolo, dato che gli sviluppatori di Larian sono chiaramente dei grossi fan della serie e non ci sono andati certo leggeri col fanservice. Oltre a creare un proprio personaggio da zero, nel gioco è anche possibile partire con dei personaggi predefiniti interpretando magari uno dei compagni, oppure uno specifico punto di partenza personalizzabile chiamato Oscura Pulsione, che a nostro parere è quello più affascinante in assoluto, specialmente per chi ha giocato i predecessori. Solo un avvertimento, però. Questo gioco è estremamente maturo, che non ci va leggero né quando si tratta di parlare di violenza né di sesso. Anzi, specialmente per quanto riguarda la seconda tematica, forse è persino troppo vicino al vero Dungeons & Dragons. Praticamente verrete sommersi dalle Avance durante l'avventura, quindi se quando giocate al tavolo con gli amici adorate interpretare un bardo desideroso di infilarsi nel letto di qualunque creatura del reame, beh, avrete certo di che divertirvi. A nostro parere, forse gli scrittori potevano andarci un po' più leggeri con le scene hot, perché alle volte la tendenza dei compagni a strapparsi le vesti diventa quasi comica. Ovviamente una simile gestione della narrativa non sarebbe possibile se a supportarla non ci fosse una struttura di gioco solida e profonda. Baldur's Gate 3 si basa infatti sulle regole della quinta edizione di Dungeons & Dragons, ma allo stesso tempo le arricchisce riprendendo in parte il sistema elementale di Divinity e va ad arricchire già il notevole ventaglio di azioni a disposizione del giocatore. E questo permette di fare cose abbastanza assurde. Si possono infatti disattivare trappole lanciando oggetti o incantesimi sugli interruttori, creare torri di casse per scalare un edificio, bypassare completamente interi puzzle mandando in cortocircuito i meccanismi con un po' di acqua e un fulmine, usare il corpo inerme di un nemico come arma e molto, molto altro. Sono poche infatti le cose che non si possono fare in questo Baldur's Gate, e questo ha permesso di creare missioni memorabili pensate proprio per stimolare la creatività del giocatore. Innumerevoli enigmi sono del tutto evitabili solo con l'incantesimo giusto al momento giusto, ed è spesso possibile anche uscire da situazioni all'apparenza insuperabili solo cambiando tattica e sfruttando meglio i tanti poteri a disposizione di ogni classe. La cosa migliore è che l'Aryan non ha nemmeno dovuto sacrificare la spettacolarità dell'avventura per venire incontro a questa ragnatela di missioni e battaglia. Baldur's Gate 3 è infatti un crescendo continuo, in cui ogni atto è migliore del precedente e i momenti epici non mancano assolutamente, vuoi per via di scene d'intermezzo ben posizionate o di spettacolari battaglie con boss di rara brutalità. L'unica reale mancanza qui è il modo in cui è stata pensata l'interfaccia. Un'opera titanica come questa conta infatti un numero di oggetti a dir poco assurdo, e la gestione dell'inventario non è né delle più intuitive né delle più brillanti. Gli sviluppatori ci hanno pure provato a migliorare le cose, inserendo una barra della ricerca per gli oggetti, vari modi per riordinare ogni strumento ottenuto e persino borse e borsette di ogni dimensione. Eppure bisogna ammettere che si poteva fare di più per facilitare la gestione al giocatore o magari automatizzare la suddivisione di alcuni arnesi. E le cose si complicano addirittura quando ci si addentra nella gestione delle classi e del gameplay durante le battaglie. Lo abbiamo detto, Baldur's Gate 3 si basa in larga parte sul sistema di gioco a turni di Dungeons & Dragons Quinta Edizione, e gli elementi in comune sono talmente tanti che per creare personaggi potenti è sufficiente avere delle buone nozioni di quel regolamento e applicare alla progressione del proprio alter eggway dei suoi compagni all'incirca le stesse basi e ottimizzazioni delle abilità che si applicherebbero nella versione carta e penna. Ma c'è solo un piccolissimo problema. D&D non è un gioco molto ben bilanciato, e infatti spesso per riequilibrare la situazione ci deve pensare il Master. Master che in Baldur's Gate è completamente assente, con i ben pochi limiti del sistema a rappresentare l'unica barriera per fermare quei giocatori particolarmente ferrati nell'arte del powerplay. Bisogna dire che Larian ha pure ritoccato un po' le varie classi e abilità, ma invece di indebolirle hanno optato per la soluzione più divertente arrivando addirittura a potenziare alcune di quelle meno rappresentate come il Monaco, qui molto più solido rispetto alla sua controparte cartacea. E come potrete ben immaginare, insomma, chiunque sappia gestire a dovere la progressione, le pozioni e i tanti espedienti aggiuntivi offerti dal gioco per fare danni potrebbe potenzialmente superare qualunque battaglia senza sforzo. Larian però è nota anche per la difficoltà non proprio accessibile dei suoi giochi, e anche stavolta ha deciso di bilanciare il tutto tarando il livello di sfida verso l'alto. Già a difficoltà normale, infatti il primo atto vi prenderà calci, mentre dal secondo atto si cominciano ad affrontare battaglie selvagge e ricche di nemici. La difficoltà del gioco si mantiene sempre alta anche per via della scelta degli sviluppatori di limitare il livello massimo del giocatore a 12. Non fatevi intimorire, però, ci sono infatti tre livelli di difficoltà selezionabili. Una pensata per godere della narrativa senza preoccuparsi eccessivamente degli scontri, il livello normale e infine una difficoltà tattica per chi vuole davvero spingersi al limite. E quest'ultima porta ai nemici a essere marcatamente più aggressivi, resistenti e pericolosi, e vi costringerà ad usare quindi al meglio tutte le vostre capacità. Restando in tema di nemici è il caso di fare un discorsetto anche sull'intelligenza artificiale, perché le routine degli avversari in Baldur's Gate 3 sono allo stesso tempo tra le più elaborate e le più ottuse che abbiamo mai visto. I nemici del gioco infatti ogni volta che il loro turno adattano i loro attacchi tenendo in considerazione un gran numero di dati, tra cui il posizionamento dei personaggi del giocatore nella mappa e la possibilità di sfruttare certi elementi interattivi a proprio vantaggio. Questo significa che se vi posizionate male potreste vedere l'IA usare contro di voi alcune strategie molto… umane, diciamo. Potrebbero ad esempio eliminare uno dei vostri compagni spingendolo in una voragine senza fondo, concentrarsi subito sui personaggi con meno difesa e più attacco, oppure tentare di usare dei poteri di controllo molto fastidiosi. I calcoli sono così complessi però che può capitare che il nemico si blocchi per alcuni secondi, incapace di comprendere quale sia il percorso migliore da seguire per raggiungere rapidamente il giocatore o come prepararsi al meglio ad alcuni vostri movimenti. Quindi, in parole povere, il nemico è straordinariamente pericoloso in mappe dalla struttura semplice, ma tende a impallarsi o fare errori nei campi di battaglia con più verticalità, specialmente se il giocatore abusa di abilità come teletrasporti o volo. Attenzione, però, non accade sempre, tanto che ci è capitato più volte di avere a che fare con minacce agguerritissime e brillanti anche in mappe su più livelli. Ad essere onesti l'incapacità dell'intelligenza artificiale di adattarsi a certe zone era però un problema presente anche nei Divinity Original Sin, e sarebbe stato quindi bello vederlo sparire del tutto. Difficile invece criticare la qualità grafica generale, dato che l'evoluzione di Larian è stata epocale pure in tale aspetto. Baldur's Gate 3 è un GDR con visuale dall'alto, eppure il livello di dettaglio è di tutto rispetto anche quando si avvicina tanto la telecamera, a partire dalla qualità generale di texture e modelli nella creazione del personaggio. Inoltre le mappe sono piene zeppe di elementi ben modellati, e in particolare la città di Baldur's Gate ci è sembrata un vero splendore, specie se si considerano le sue dimensioni. Persino il lavoro di ottimizzazione è di tutto rispetto. Con una configurazione medio-alta si riesce infatti a far girare tutto al massimo con ben pochi problemi, e il motore è scalabile al punto da offrire un'esperienza più che degna anche su configurazioni nettamente meno performanti. Messo tutto nero su bianco però bisogna ricordare una cosa importantissima. Baldur's Gate 3 è un gioco Larian nel bene e nel male, e per quanto talentuosa questa software house belga non è certo nota per la pulizia dei suoi lavori. Siamo spanne sopra rispetto alla stabilità dei diviniti al lancio, sia chiaro. Tuttavia anche il nuovo Baldur's Gate è piagato da un discreto numero di bug, a volte innocui, altre volte molto meno. Solo in un paio di casi abbiamo trovato ad attenderci problemi tecnici o glitch in grado di bloccare la nostra progressione costringendoci a ricaricare, ma per quanto riguarda invece i bug minori sono molto più frequenti soprattutto nell'atto 3. Durante le vostre scorribande potrà quindi capitare di vedere morti non proprio cristalline di un personaggio, quest che non si aggiornano nonostante il passaggio d'atto e il mancato completamento, indicatori che spariscono dalla mappa, interazioni sballate tra oggetti e via così. È un mix piuttosto classico di inciampi e sinceramente ci aspettavamo cadute di stile molto più gravi in un GDR enorme come questo. Nel complesso, infatti, seppur evidenti, le problematiche tecniche non hanno comunque realmente mai rovinato la nostra esperienza, al di là dell'averci tirato fuori qualche imprecazione in momenti particolarmente ricchi di tensione. Larian, peraltro, sta chiaramente continuando a supportare la sua creatura con patch settimanali, che di volta in volta sistemano dozzine di piccole mancanze. Difficile dire se riusciranno mai davvero a ripulirla completamente, ma è sicuramente una bella dimostrazione di intenti. Sulla cooperativa purtroppo è stato arduo tirare conclusioni molto approfondite. L'abbiamo testata senza troppe difficoltà ed è un'esperienza esaltante con gli amici proprio per via della sua somiglianza alle follie del Dungeons & Dragons da tavolo. Peccato solo per la mancanza di una modalità master. Considerato, infatti, il modo eccezionale in cui è stato trasposto Dungeons & Dragons, si sarebbe trattato certamente di un extra a dir poco memorabile. Comprensibile ad ogni modo che gli sviluppatori non siano riusciti a inserirla per il lancio, ma non è detto che in futuro non possa arrivare. Ottimo, infine, tutto ciò che riguarda musica e audio. I doppiaggi in inglese sono di qualità altissima nonostante il numero esagerato di dialoghi, mentre la colonna sonora ci ha positivamente sorpreso dimostrando un'evoluzione del team persino in quest'ultimo aspetto. Meno bene ad essere onesti la localizzazione italiana che conta svariati errori qua e là, ma se non altro è presente al lancio e a sua volta verrà perfezionata nelle prossime patch. È quasi un peccato, però. Se si conta infatti quanto sono tradotti male i manuali italiani della quinta edizione di Dungeons & Dragons, è quasi più fedele così come ora. Baldur's Gate 3 è un GDR straordinario e rappresenta la definitiva consacrazione di Larian come nuova grande colonna portante del genere. Si tratta infatti di una strabiliante trasposizione digitale di Dungeons & Dragons, capace di trasmettere emozioni e offrire possibilità che avremmo creduto di poter trovare solo nelle migliori partite attorno al tavolo in compagnia di un master. Il fatto che un videogioco possa regalare oggi un'esperienza simile gli garantisce un impatto comparabile a quello dei suoi diretti predecessori e siamo sinceramente convinti che col passare degli anni verrà ricordato con lo stesso amore e riverenza delle grandi opere dell'era Black Isle Studios e della vecchia Bioware. È una medaglia pesante da portare al petto e l'unico motivo per cui non lo premiamo con il nostro voto più alto possibile è che ancora margini di miglioramento sia per via di alcune piccole ma evidenti mancanze interne che per gli immancabili bug. Resta comunque un capolavoro da avere assolutamente se amate i titoli profondi e sviluppati con passione e un must play per chiunque adori i giochi di ruolo. E voi, state già giocando Baldur's Gate 3? E qual è la vostra opinione sul gioco? Raccontatecelo nei commenti e se volete supportare il nostro lavoro e non perdervi nessuno dei nostri video, iscrivetevi al canale e cliccate sulla campanellina. Qui vi lasciamo altri filmati che potrebbero interessarvi, mentre noi ci diamo appuntamento al prossimo video, sempre qui su Multiplayer.it.